Massimiliano Di Pillo, il Movimento 5 Stelle chiede chiarezza e trasparenza sull'ente manifestazioni pescaresi. Perché? Perché relativamente a una richiesta di accesso agli atti abbastanza particolareggiata di quella che è stata la programmazione del 2013-2014 non ci sono stati dati i documenti se non quello che è il bilancio per macro-ari e quindi questa cosa per noi ci è sembrata un po' anomala. Hanno adotto un articolo dove praticamente secondo loro essendoci presenza del privato noi come consiglieri comunali non possiamo entrare all'interno di questi documenti non possiamo vedere questi documenti quando comunque all'interno dell'ente manifestazione ci sono 5 consiglieri nominati dallo stesso Comune. Quindi ci sembra abbastanza anomalo visto che oltretutto il Comune annualmente dà una sovvenzione all'ente manifestazione e quindi io credo che sia diritto del cittadino pescaresi di sapere dove vanno a finire questi soldi, quali sono le spese, quali sono i particolari, ripeto, di progetti, di spettacoli che sono stati fatti negli anni precedenti e quest'anno. Ci aspettiamo che comunque l'amministrazione dia seguito a queste nostre richieste perché penso che sia giusto che i cittadini pescaresi sappiano come è stato speso, come è stata gestita la situazione dell'ente manifestazione. Non mettiamo assolutamente in dubbio l'ente manifestazione, non mettiamo in dubbio nulla di quello che è stato precedentemente perché sicuramente Pescaraggezza è il fiore all'occhiello dell'Abruzzo e di Pescara, però quello che ci interessa è che se ci sono stati spettacoli per cui ci sono stati un numero di biglietti venduti vogliamo sapere quanti biglietti sono stati venduti, quante biglietti sono stati dati in modo gratuito, particolari in cui siamo scesi in questa richiesta e che però, ripeto, non c'è stata data risposta.